Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione sud a causa di un veicolo in Fiamme, traffico bloccato e 3 chilometri di coda tra Colle Salvetti e Rosignano. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. In A11 code a tratti per traffico intenso.